bella a tutti ragazzi bentornati in questo video sono FP Francigio e oggi andremo a fare la Delta Plano Challenge con mio fratello saluta ciao beh si dice bella però vabbè allora che inizia tu ok allora inizio io allora come vedete i Delta Plano sono casuali e vediamo che ci uscirà Beaches on Stitches ok aspettiamo io spero verde tu speri verde io spero anche verde perché vuole un po' più di mezzo perché tipo no io spero blu perché almeno possiamo avere pompa nuova perché io non la trovo mai comunque quindi allora allora dove andiamo un posto un po' tranquillo vabbè danno la sponda e non è tranquilla però stichiamo lì allora intensità elevata è viola è viola è viola intensità elevata è viola ma forse è blu aspetta fammi vedere no qual'è mi sa che è blu mi sa che si è blu è blu è blu è blu si è blu raga no è verde ma se vabbè è verde questa cosa ti pare è una figata allora non c'è gente allora dove andiamo raga allora questa attiva la possiamo prendere i cilini li possiamo no ah si le cure si possono prendere quindi come vedete raga c'ho tipo delle cose comunque raga c'era persa quando troverò un armi è blu anche il piccolo è blu oh ti prego ti prego no scenditi però madonna raga aiuto che fastidio dai fammi uscire vai ok tomicam blu perfetto ok andiamo per andarci ad aprire una chest ti prego ti prego ti prego ti prego oh bello ok non è una delle migliori armi blu comunque però è una arma grazie epic non dio anche dio è proprio più epic oh bella perfetto cioè perfetto è la grande che quella non è verde però ci prendiamo le ammo si facciamo un po di mazzo adesso pusciamo dai grassi va grassi va grassi va grassi va grassi si probabilmente tutti gli altri avranno un po differenza nostra però vabbè prendiamoci le bandages raga non vedo nessuno però ok c'è qualcuno qua e questo è forte raga eh no era forte era forte era molto forte ok vediamo la seconda partita che sarà di un fratello e vediamo come se la cava io ero posizionato non mi ricordo cosa non ho sempre questa skin è carina dai comunque raga ricordatevi di iscrivervi al canale ok basta se non l'avete fatto se non l'avete già fatto mettete un like a questo video e e basta adesso metti pronto a non fare altro ok partita adesso sta giocando mio fratello comunque io sono nabbo eh si raga mio fratello abbastanza nabbo quindi non credo che farà meglio di me capito raga comunque vi voglio consigliare delle cuffie da gaming che sono quelle che uso che si chiamano bexcellent che sono delle cuffie buonissime con radio pazzesco e dovrebbero avere un microfono molto buono quindi ditemi la qualità dell'audio e dei commenti che dovrebbe essere abbastanza buona allora raga ci sta mettendo un anno a caricare vabbè dettagli ah si dettagli comunque qua c'è johnsy la c'è una vecchissima di skin la c'è ok siamo in game 99 oh questo è john wick vero però questo è il vero johnsy ah dio io johnsy wick si si posso per una scala john say the dolly don't vabbè ti dovrei andare pallando vai vediamo vediamo come sarà gioca jovic ah comunque da giù mi fai jovic che sarà il mio fratello ma io sono sempre stato tuo fratello si però io non ti chiamavo jovic piccolo e giovane jovic 2 2 cioè jovic 22 ah questo qua credo che è blu no è viola questo è blu si è blu no questo è blu raga questo qua è blu perfetto allora guarda è quella la allora c'è la cesta là sopra mi faccio eh mi sto facendo materiale allora oh si raga io non la trovo mai no dove puoi prendere le granate giusto ok troppiamo le granate oggi ce n'è uno ce n'è uno si vai uccidilo ha preso il tubo oh 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 ecco oh prendo la cesta oh prendo la cesta oh 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 ok K non la posso prendere le bando si perchè lo curo le posso prendere ok bene dobbiamo solamente un'arma in questo momento no è quella che sta avendo una sfortuna a parte la R cioè mostruosa cioè in tutta la piatta lunga neanche un'arma blu vabbè la R la R a parte la R cioè che è una cosa buonissima però uuuuuh non entrare ne si spugli perchè magari ci troviamo un ticcio che è il pompa che ti fa molto male le colpe che non ci servono ma li prendo e se la c'è una cesta no uh la c'è un'arma blu si ma oh raga assalto con mirino blu non è bene però comunque è un'arma in più da usare il problema è che c'ha anche questa dei proiettili medi quindi devi equilibrare più bene gioio direi di pushare eh eh c'è un po' di malz andiamo un po' di malz attenzione no aspetta oh mio dio sono morto attenzione è ditta sopra e poi sta oh mio dio no scusate scusate ma non ci abbiamo fatta spero che questo video vi sia piaciuto scusate non scusate ire st